Nella precedente lezione abbiamo esposto la tesi fondamentale del libro Esercizi spirituali e filosofia antica dello storico della filosofia francese Pierre Hadoux, ovvero che la filosofia antica ha rappresentato a suo tempo non solo una scuola di apprendimento di tipo scientifico, concettuale, intellettuale, ma anche una vera e propria scuola di vita. È un'affermazione generale perché si adatta a molte delle scuole, a molte delle correnti filosofico antiche, dal IV secolo a.C. grosso modo fino al IV-V secolo d.C., quindi per un arco di tempo molto ampio. A cominciare dalle scuole socratiche, per così dire, in effetti il fondatore della filosofia occidentale è Socrate, fino ad arrivare alle stesse scuole in epoca tardo-antica. Alcune delle scuole filosofiche pagane chiuderanno i battenti, per così dire, soltanto dopo la fine dell'impero romano d'Occidente. Quindi un arco di tempo di parecchi secoli e durante questo lungo periodo, lungo quasi un millennio, la filosofia ha rappresentato per moltissime generazioni di persone non solo un esercizio, per così dire, intellettuale, accademico, come ce lo immaginiamo noi oggi, come lo pratichiamo noi oggi, ma una vera e propria scuola di vita, una vera e propria scelta di vita. Dunque, chi entra in questa o in quella scuola lo fa non solo per curare la propria formazione scientifico-intellettuale, ma anche per curare la propria arte del vivere, una tecne to bio, il proprio stare al mondo, per così dire. Dunque, per prendersi cura di se stesso. Quindi fare filosofia è un atto eminentemente pratico, è prassi, è per l'appunto un fare, si basa su una serie di esercizi, esercizi concreti, quegli esercizi spirituali, di cui abbiamo dato la definizione, non coinvolge solo la parte intellettuale, ma coinvolge anche la parte emotiva, la parte immaginativa e la parte fisica, quindi si tratta di esercizi che coinvolgono tutta la persona, si basa su un binomio inscindibile, per cui il filosofo e il fare filosofia sono un'unica cosa, così come bios, vita, e filosofia, vita e pensiero, rappresentano un binomio per l'appunto inscindibile. Dunque, fare filosofia significa fondamentalmente prendersi cura di se stessi o entrare in una comunità che, oltre a fare ricerca scientifica, fa, per così dire, ricerca di tipo esistenziale, cura di se stessi. Il punto d'arrivo è fondamentalmente l'equilibrio, il benessere, la serenità. Si tratta di elementi spiccatamente presenti, chiaramente presenti, soprattutto nelle cosiddette filosofie ellenistiche, lo abbiamo detto nella scorsa lezione, ed in particolare in quelle due filosofie ellenistiche che trattiamo in questo ciclo di lezioni, sulla scorta per l'appunto di Ado, sono le più importanti, le più famose, cioè lo stoicismo e l'epicureismo. Naturalmente esistono un altro numero molto vasto di scuole filosofiche, di correnti filosofiche, che hanno anche una durata nel tempo decisamente vasta. La scuola stoica e la scuola epicurea, che prendono avvio nella seconda metà del IV secolo a.C., si distenderanno parallelamente all'Accademia Platonica e al Liceo Aristotelico per molti secoli e rappresenteranno, per così dire, ricette diverse, modalità diverse di rappresentarsi il mondo e di stare al mondo. Tutte quante queste scuole, e in particolare quella stoica e quella epicurea, condividono però l'assunto di fondo, ovvero che fare filosofia deve servire a ben vivere e deve servire fondamentalmente all'individuo, affinché l'individuo possa, cioè ciascuno di noi, possa vivere in maniera integrale, ricca, qualitativamente elevata la propria esistenza. Un'esistenza che viene intesa naturalmente come finita, come limitata nel tempo. Nelle filosofie ellenistiche, quindi abbiamo preso in considerazione lo stoicismo e a breve ritorniamo sui principi fondamentali dell'etica stoica, la concezione del mondo, ovvero lo studio della realtà, della physis, della natura, è propedeutico, insieme all'altro settore fondamentale che è quello della gnosiologia, cioè dello studio di come funziona la conoscenza, è propedeutico all'etica propriamente detta. Quindi abbiamo una tripartizione della materia, per così dire, in fisica, studio della realtà, studio della natura, physis, gnosiologia, studio delle modalità di funzionamento della conoscenza, nonché della logica, cioè del funzionamento del pensiero umano, e in ultimo l'etica, cioè le norme fondamentali che dovrebbero guidare la nostra condotta. Questa tripartizione mira, in ultima istanza, alla pratica, cioè a supportare quegli esercizi spirituali atti a farci conseguire l'obiettivo di fondo, cioè il benessere, quella che sia gli stoici che gli evicurei chiamano atarassia, ovvero l'assenza di turbamento, ovvero, per dirla con una parola di oggi, la felicità, anche se il concetto di felicità che hanno gli antichi è piuttosto diverso rispetto al nostro. Lo specificheremo in seguito. Dunque, la concezione di epiteto, i principi fondamentali che troviamo esposti nell'incipit del manuale di epiteto, si rifanno da una concezione del mondo, quella stoica, in cui sostanzialmente l'universo, il mondo, è regolato da un principio che è sia materiale sia spirituale, il principio spirituale, che è una sorta di intelligenza cosmica, o di anima mundi, per così dire, è chiamato logos, come dire, la realtà è permeata al suo interno da un'intelligenza, da uno spirito, che loro chiamano logos, ed è il logos quello della dottrina eraclitea, per capirci. Ovvero, esiste una legge, una legge generale, che tiene unito, che regola l'intero mondo, l'intero universo, che viene concepito come un tutt'uno organico, quindi che ha sia una componente materiale che una componente, per così dire, intellettiva, noetica, di pensiero. E la componente di pensiero, che è immanente, cioè presente nel corpo dell'universo, nel corpo del cosmo, per così dire, lo regola e gli dà vita dall'interno. E si manifesta, in termini di scintille di intelligenza, per così dire, nell'essere umano. Quindi l'essere umano, ciascun individuo, è perfettamente integrato nel questo cosmo, che è sovraordinato e animato dall'interno, dal logos, ed è munito di questa scintilla di logos, che gli consente di decidere autonomamente se, come dire, dare il proprio assenso alla legge generale dell'universo, oppure evidentemente di sentire. Ma, tutti noi conosciamo una formula che risale a Seneca, ovvero volentes, fata, ducunt, nolentes, traunt, cioè coloro che vogliono, cioè che scelgono liberamente di aderire al logos, cioè al progetto, alla legge fondamentale del cosmo, del mondo, vengono, per così dire, guidati, mentre coloro che decidono di opporsi, nolentes, quelli che non vogliono, vengono, per così dire, trascinati. Questo è l'elemento fatalistico che, diciamo, dà il là alla concezione stoica. fatalismo relativo dipende evidentemente dal punto di vista, perché l'intelligenza del singolo uomo gli consente di aderire liberamente alla legge della natura e si parte proprio dal riconoscimento che ci sono cose che sono disponibili per noi, quindi che ricadono sotto il nostro dominio, e ci sono cose che non ricadono sotto il nostro dominio, che dunque non possiamo manipolare, non possiamo condizionare, ed è su questa differenza sostanziale che si basa l'incipit del manomale di epitesio, e quindi la regola fondamentale dell'etica e della pratica degli esercizi spirituali stoici, ovvero tutti gli esercizi spirituali che andremo a studiare di qui in innanzi tengono conto di questa distinzione fondamentale, di questo principio fondamentale. L'esercizio della cosiddetta diairesis, cioè la capacità di giudicare distinguendo di a, è quella che mette lo stoico in condizione di distinguere quello che è in suo potere, cioè quello che lui effettivamente controlla, da ciò che lui non controlla. Ciò su cui l'individuo esercita il proprio potere, ovvero lo spazio interiore, lo spazio dell'intelligenza, lo spazio delle emozioni, lo spazio dei desideri e delle avversioni, rientra nelle cose che sono sotto il suo controllo, quindi lì lui è padrone, è padrone a casa sua, mentre lui, ciascuno di noi in realtà, mentre tutto ciò che è esterno, questo spazio interiore, è sostanzialmente subordinato a leggi ulteriori, leggi della natura per esempio, oppure al giudizio morale di altre persone. Sostanzialmente rispetto alle leggi di natura, noi esseri umani dal punto di vista degli stoici, oggi la concezione del mondo in effetti un pochino è cambiata per via delle grandi scoperte scientifiche, tecnologiche, solo fino a un certo punto, i fatti di questi giorni e il diffondersi della pandemia ci stanno insegnando molto, forse gli antichi anche da questo punto di vista avevamo ragione, cioè ci sono delle leggi, leggi naturali che noi uomini non possiamo mettere in discussione, non possiamo sfidare, sono al di là della nostra portata e saper distinguere intelligentemente ciò che rientra in nostro potere che è alla nostra portata e sul quale possiamo decidere rispetto a ciò che invece è al di là della nostra portata è questione di intelligenza, cioè di giudizio di airetico per così dire. Quindi, dicevo, ciò che rientra in nostra portata sotto il nostro controllo sono le nostre reazioni, per esempio, ai fatti della vita, le interpretazioni che diamo ai fatti della vita, le idee che ci facciamo delle cose, ad esempio, il fatto di dover morire non rientra nella sfera del nostro giudizio, non possiamo giudicare di dover o non dover morire, non rientra nelle nostre scelte. Quello che possiamo scegliere è di elaborare una concezione adeguata della morte, di accettare la morte, di rappresentarci la morte in maniera corretta, come un fatto della vita, che ha una sua ineluttabilità, perché è iscritto nella legge di natura. questo rientra nel nostro potere, non è il nostro potere evidentemente scegliere di non morire, non volere morire, ecco i nolentes che vengono trascinati via, quindi è il nostro potere mantenere, crearsi un'idea coerente, significativamente coerente, significativamente adeguata della morte, intesa come fatto naturale. Desiderare e avversare, beh, desiderare quello che è il mio potere, questo effettivamente mi rende un uomo libero, desiderare ciò che non è il mio potere, ciò che va al di là delle mie forze, ciò che va al di là delle mie competenze, mi rende automaticamente schiavo, perché desiderare un potere illimitato, oppure una quantità di denaro infinita, evidentemente è irreale, è irreale perché in gran parte non dipende da me, non sono io a poter decidere di diventare, non so, l'uomo più potente o l'uomo più famoso del mondo, ci sono tutta una serie di idee, diciamo, di fatti che sono assolutamente aleatorie e che non sono sotto il mio controllo e che poi in ultima istanza non mi renderebbero comunque felice. Allora, la distinzione tra ciò che posso legittimamente desiderare e ciò che debbo avversare, ma che debbo avversare fino a un certo punto, è chiaro che la malattia non mi rende gioioso, nessuno di noi è contento di stare male, ma c'è una differenza tra l'accettare in maniera tutto sommato serena, quindi diciamo al netto della sofferenza che la malattia ti porta, accettare serenamente la malattia come fatto naturale rispetto invece al fare di tutto per opporsi alla malattia o a disperarsi nell'essere malato il che aggrava per così dire la mia condizione cioè il cercare di respingere l'avversare in maniera diciamo smodata quella che è la mia condizione di malato qualora cadessi malato mi porterebbe ad essere ancora più sofferente mi richierebbe un ulteriore carico di sofferenza l'accettazione della malattia invece sostanzialmente è il mio potere e questa mi dà quel benessere intro certi limiti quel benessere diciamo morale che è effettivamente tutto ciò che io posso controllare è lo stesso l'azione etica dunque rispetto a ciò che mi viene dall'esterno io posso effettivamente decidere di comportarmi in una maniera piuttosto che nell'altra per esempio di fronte alle provocazioni che mi vengono fatte da un mio nemico politico se metto a discutere di politica mi metto a discutere di calcio o altre amenità del genere io posso adottare un atteggiamento di risposta violenta assolutamente non libero assolutamente condizionato oppure posso non reagire ma agire in maniera come dire pacifica gettare acqua sul fuoco non abbandonarmi all'ira alla rabbia questo è il mio potere controllarlo mentre non è il mio potere controllare il punto di vista le emozioni le reazioni del mio interlocutore questa è sostanzialmente la visione in estrema sintesi di Epiteto è il principio fondamentale su cui si basa l'etica stoica e totalmente al di là del nostro potere rientrano i denari i beni la carriera politica la fisicità la corporeità tutti i beni materiali e così via se noi decidiamo ecco confondiamo quindi non esercitiamo la diairesi la distinzione in maniera chiara e distinta in maniera adeguata e ci mettiamo in una condizione di schiavitù e dunque ci condanniamo all'infelicità cioè non facciamo buon uso di quella scintilla di logos che in qualche maniera ci lega al tutto organico il cosmo di cui facciamo parte quella scintilla di intelligenza fa di noi entro certi limiti un essere divino o una parte di un essere di un tutto che è divino che rappresenta la divinità una divinità che non è ulteriore non è trascendente ma è immanente nel mondo è un tutt'uno con il mondo ora mettere in atto questo tipo di etica va da sé non è affatto facile non è affatto facile io l'ho esposta in maniera tutto sommato semplicistica ma anche dalla mia esposizione vi sarete resi conto come riuscire a praticare una visione del mondo così strutturata così complessa è assolutamente difficile e dobbiamo allenarci e dobbiamo allenarci in particolare sia in termini di airetici sia in termini di pro airesis cioè quella scelta a vantaggio in funzione di che fa dello stoico il termine stoico tutti lo associamo ad una visione basata sul dovere sulla sopportazione substine et abstine uno dei motti dello stoicismo cioè sopporta e astieniti quindi un rigoroso moralismo ora questa visione non è affatto facile da realizzare occorre molta pratica occorre molto allenamento da qui la necessità di quegli esercizi spirituali di quell'ascesi che è assolutamente fondamentale ed è questo il punto sostenuto da Ado quindi lo stoico passerà gran parte della sua vita coltivando una serie di pratiche atte a modellargli la mente corpo modellare la sua anima la sua individualità in funzione delle verità della scuola stoica in funzione di questa visione del mondo è un po' come il corpo di un atleta che va addestrato con un va coltivato quotidianamente senza interruzione quindi non esiste il momento dello studio per così dire separato dal resto della vita il praticante il filosofo praticante fa della sua vita quotidiana la palestra il luogo a volte anche il campo di battaglia in cui sostanzialmente si mette costantemente alla prova ci sono giunti effettivamente ci sono giunti soltanto degli spunti non abbiamo un decalogo completo degli esercizi spirituali stoici né di quelli epicurei sostanzialmente abbiamo dei titoli di opere che sono andate perdute purtroppo nel senso che sarebbe stato molto interessante avere come capita per esempio per le filosofie orientali per il buddismo nel buddismo non abbiamo soltanto tanto e soltanto dei trattati teoretici che ci spiegano ci illustrano la complessa visione del mondo buddista che per molti versi assomiglia a quella delle scuole ellenistiche strutturata nella stessa maniera quindi c'è una componente diciamo fisica la visione del mondo la visione della realtà poi c'è la componente ignoseologica che nel buddismo è assolutamente fondamentale e poi in ultima c'è l'etica e poi c'è la pratica ecco quindi ci sono trattati che illustrano l'argomento in senso teoretico ma poi nel buddismo abbiamo quelli trattati che parlano degli esercizi di spirale ci dicono concretamente come fare quindi come metterci seduti come mettere le mani come posizionare le gambe come come poggiare le ginocchi al pavimento sul pavimento come tendere la schiena e così via cioè ci danno proprio delle informazioni concrete programmatiche su come mettere in atto determinati esercizi spirituali purtroppo nella letteratura antica abbiamo indubbiamente delle tracce che poi sono quelle che vediamo durante questo ciclo di lezioni che prendiamo velocemente in considerazione ma non abbiamo dei trattati completi non ci sono giunti possiamo farci però un'idea generale di questa mappa degli esercizi stoico platonici in realtà che appartengono a tradizione stoica in particolare ma che sono anche di derivazione platonica attraverso l'opera di questa opera quis rerum divinarum eras di Filone d'Alessandria lui ci fornisce due liste nella prima lista troviamo al primo posto la ricerca zetesis l'esame approfondito schepsis lettura ascolto attenzione il dominio di sé è in crateia l'indifferenza le cose indifferenti nella seconda lista le letture meditazioni meletai terapie delle passioni terapeiai i ricordi di ciò che è bene il dominio di sé è in crateia come nella prima lista e poi il compimento dei doveri possiamo ecco basarci su queste due liste che ho cercato di integrare nella seguente maniera per illustrare in generale il quadro degli esercizi spirituali stoici quindi zetesis e schepsis cioè ricerca esame approfondito sono due due pratiche indubbiamente filosofiche no ricerca che non è una ricerca anche qui meramente intellettuale è la ricerca di una verità che sia funzionale al ben vivere cioè che mi cambi effettivamente la vita che inneschi quella epistrofe quella conversione di cui dicevamo nella scorsa lezione lo stesso l'esame approfondito che è esame approfondito della realtà schepsis da cui scettico schepsis è appunto la ricerca approfondita l'analisi approfondita che sostanzialmente riguarda il mondo ma che poi riguarda il soggetto che si pone le domande cioè il soggetto si pone delle domande filosofiche sulla realtà perché dal dal modo in cui si pongono queste domande delle risposte provvisorie che ci si dà a queste domande dipende la sua vita dipende il suo stare al mondo quindi il soggetto filosofante non si pone mai domande per così dire astratte che trascendono il suo essere al mondo sono sempre domande estremamente interessate poi abbiamo l'ascolto ascolto attivo quello che per esempio sarebbe richiesto in classe agli studenti letture letture le letture giuste la giusta bibliografia nel caso della scuola stoica sono i libri dei grandi maestri Zenone Crisippo in primis dei grandi maestri dello stoicismo o in epoca tardoimperiale di un Seneca o di un Epiteto e così via e poi le meditazioni meleitai meditazione qui vuol dire la meditazione è il modo in cui articoliamo nella vita di tutti i giorni i principi generali ossia non basta conoscere i dogmi cioè i principi generali di questo di quella dottrina ma occorre poi applicarli al singolo caso e meditare sulla sulla corretta applicazione di quel principio se io per esempio ho elaborato ho appreso una serie di principi teorici per così dire su come gestire l'ira su come gestire la rabbia e poi toccherà a me attraverso la meditazione e attraverso la conoscenza di me stesso e ognuno di noi fa della sua propria vita il banco di prova fondamentale ecco toccherà a me capire come applicare quel principio come adattarlo a quella determinata circostanza a quel fatto della mia vita e dunque è necessario allenare l'attenzione prosoche l'attenzione vuol dire l'essere concentrati sul momento presente sulla realtà per come ci si manifesta ci viene squadernata dinanzi in questo preciso momento ic et nunc questo vuol dire prosoche attenzione partecipazione attiva perché solo il momento presente è effettivamente reale quindi un bagno di realismo un sano realismo e in effetti la filosofia stoica tutte le filosofie ci invitano ad un sano realismo cioè alla conoscenza della realtà e a una adesione questo è il senso della pro airesis alla realtà ai fatti della realtà una adesione che però è essere libera attiva è un dir di sì alle cose non un essere passivamente trascinato via dai fatti della vita dunque la prosoche significa prevede l'allenamento di quella di airesis quella distinzione attiva quel giudizio che distingue ciò che dipende da me da ciò che non dipende da me e allenamento della pro airesis cioè la giusta adesione alle cose giuste alle cose che sono effettivamente il nostro potere poi la terapia delle passioni capitolo assolutamente importante molte opere degli stoici si intitolano proprio ad esempio De Ira no? su come gestire l'ira piuttosto che come gestire la tristezza o altre passioni che cosa significa passione? perché la terapia delle passioni? perché il termine passione si riferisce alla sfera evidentemente emozionale si riferisce a tale sfera emozionale in termini passivi cioè il filosofo deve sostanzialmente allenarsi a diventare consapevole delle emozioni che gli urgono dentro che gli si manifestano dentro conoscerle per poterle gestire per poterle trasformare perché è in suo potere gestirle trasformarle che non vuol dire negarle evidentemente o semplicemente limitarsi a spegnerle a sopprimerle è piuttosto irreale ma significa conoscerle studiarle e per così dire utilizzarle in energia a fini ulteriori a fini diversi io posso per esempio lavorare sulla mia rabbia posso lavorare sulla mia tristezza per sfruttarne l'energia dedicandomi ad altri fini ad altri obiettivi per esempio l'energia della rabbia come ci insegna lo stesso Platone può diventare per un guerriero sul campo di battaglia può diventare il coraggio quindi che viene utilizzato a fin di bene per così dire per il guerriero stesso e per la comunità per la polis a cui il guerriero appartiene e per la quale il guerriero combatte è soltanto un esempio poi l'encrateia cioè il dominio di sé l'autodominio che è appunto il frutto della terapia delle passioni l'indifferenza alle cose indifferenti quella a diafora sono le cose indifferenti che vuol dire cose indifferenti beh e che vuol dire coltivare l'indifferenza che non vuol dire sostanzialmente diventare distaccati e cinici ma è un frutto di quella diairesi di cui dicevamo prima cioè è inutile interessarsi appassionarsi di cose che non sono in nostro potere e che quindi non sono di per sé né bene né male cioè gli accadimenti esterni per così dire la crisi economica il diffondersi dell'epidemia su scala globale non è non rientra in potere del singolo il singolo non può farci nulla dunque è in sé persone né un bene né un male è un fatto di natura è assolutamente neutro bene o male sono termini che si riferiscono esclusivamente alla sfera etica e la sfera etica è quella dell'interiorità quindi la partita del bene e del male della giusta decisione o della decisione errata quindi contraria alla logica è soltanto la sfera dell'interiorità quella del controllo delle mie rappresentazioni dei giudizi che io do sulle cose i fatti di natura di per sé non accadono sono degli accadimenti non sono né bene né male un terremoto non è né bene né male è un accadimento e poi quando capita posso inveire contro la divinità o contro gli altri esseri umani che hanno fatto non hanno fatto questo o quella cosa ma di per sé non rientra nella mia sfera di competenza quindi non può essere giudicato né un bene né un male ecco cosa vuol dire coltivare allenarsi a coltivare indifferenza per quelle cose che effettivamente sono indifferenti e poi ricordare ciò che è bene mneme cosa fondamentale anche qui l'allenamento della memoria il tener presenti i principi fondamentali della scuola di appartenenza è essenziale per potersi impratichire degli stessi principi mettendoli in pratica ad ogni piesso spinto e nonché per lo stoico che è cosmopolita cioè cittadino del mondo cittadino del mondo perché la dimensione del filosofo stoico così come di quello epicureo sostanzialmente non è questo o quella polis abbiamo detto che l'elenismo è l'epoca in cui sostanzialmente le polis si iniziano a decadere quindi anche il ruolo del polites del cittadino di questo di quella polis di Atene piuttosto che di Sparta inizia a venire meno rispetto all'individuo l'individuo il filosofo che si sente parte di un tutto quindi parte di questa cosmopolis in cui rientra l'umanità ma sostanzialmente anche la la natura il mondo in sé per sé quindi lo stoico è parte di un'umanità complessa ampia che va al di là delle mura cittadine ed è parte di un mondo integrato parte della natura dunque vive dovrebbe vivere all'unisono con la natura da qui il compimento dei propri doveri di buon padre se si tratta di un uomo di buona madre o di buon figlio tutti quei doveri morali che sono assolutamente fondamentali e che dipendono dall'individuo ma sono anche doveri nei confronti del prossimo doveri nei confronti della natura doveri nei confronti della città o dello stato di appartenenza quello appunto che gli stoici chiamano cateconta i principi fondamentali dello stoicismo della dottrina stoica debbono per l'appunto essere continuamente sotto mano pro cheiron che il cheiros in greco vuol dire mano quindi sotto mano da qui per esempio il titolo lo traduciamo in italiano manuale in greco enkeridion cioè ciò che è a portata di mano questo è il senso del manuale lo posso maneggiare perché mi serve costantemente me lo porto sempre appresso diventa un breviario che mi dà indicazioni concrete su come cavarmela in questa e in quella circostanza quindi il filosofo stoico non si separerà mai dai principi fondamentali della propria dottrina un po' perché li tiene sempre presenti attraverso mneme attraverso la memoria li ha per così dire interiorizzati è un po' perché si giova di un ausilio scritto per esempio il famoso enkeridion il famoso manuale è un classico esempio in realtà il termine manuale enkeridion non è stato scelto da epiteto epiteto non ha scritto nulla effettivamente la sua predicazione era orale come nel caso di socrate a mettere per iscritto gli insegnamenti di epiteto raccolti nel manuale è stato un suo discepolo tale Ariano di Nicomedia che ha composto questo breviario che ha poi avuto una lunga storia una lunga fortuna come ho già detto nella precedente lezione ribadisce epiteto tu non devi separarti da tali principi né quando dormi né quando ti alzi né quando mangi o bevi o ti intrattieni con gli uomini quindi giorno e notte bisogna dunque innanzitutto avere questi principi in pronto e non fare niente senza di essi ma avere l'anima tesa a questo obiettivo non perseguire alcuno degli oggetti esterni alcuno degli oggetti estranei bensì secondo quanto ha stabilito colui che ha il potere perseguire con ogni mezzo gli oggetti dipendenti dalla scelta morale e quanto al resto come ci è dato ovvero diciamo questi principi bisogna averli sotto mano e mantenere l'anima tesa questa tensione la concentrazione l'attenzione sono fondamentali l'ostecismo è diciamo il momento della tensione della concentrazione è il momento della sistole per così dire della contrazione del muscolo cardiaco del muscolo dell'uomo in generale della mente umana che cosa vuol dire non perseguire alcuno degli oggetti esterni quindi quello di cui parlavamo prima dell'incipit del manuale cioè il denaro le ricchezze il potere le cariche pubbliche e così via che sono oggetti estranei bensì quanto ha stabilito colui che ha il potere chi è colui che ha il potere in greco nel linguaggio degli stoici è l'egemonico per così dire che è il principio morale quella scintilla divina quel logos che è presente in ciascuno di noi possiamo chiamarlo spirito possiamo chiamarlo anima personalità il sé l'io e così via è lì che sostanzialmente si esercita il potere morale morale del singolo individuo quindi possiamo perseguire con ogni mezzo soltanto gli oggetti che dipendono dalla scelta morale cioè che sono sotto il controllo dell'egemonico cioè di colui che ha in quell'ambito in quella sfera il potere e quanto al resto accettare quello che ci è dato indifferenza verso le cose indifferenti Marco Aurelio come i medici hanno sempre sotto mano gli strumenti e i ferri per intervenire d'urgenza così tu tieni sempre pronti i principi per conoscere l'umano e il divino e per agire in ogni cosa anche nella più piccola come chi ha ben presente il reciproco legame tra l'uno e l'altro perché ignorando la correlazione con le cose divine non potrai compiere bene nulla di umano e viceversa che cosa vuol dire tenere sempre pronti i principi come se si trattasse di ferri chirurgici per intervenire d'urgenza per conoscere l'umano e il divino e la relazione che c'è tra l'umano e il divino beh secondo lo stoicismo ed è questa un'idea che troviamo anche nel buddismo per esempio tutto è interrelato tutto è interessere cioè ogni aspetto della natura ogni parte del cosmo è collegata al tutto la parte è collegata al tutto e ogni cosa dipende dal tutto sostanzialmente quindi qual è il rapporto tra l'umano e il divino il rapporto tra l'umano e il divino è il rapporto che c'è tra l'individuo tra la parte e il tutto ovvero tra l'individuo umano e la legge di natura se noi ignoriamo la correlazione che c'è con le cose divine le cose divine che sono sostanzialmente corrispondenti alle leggi di natura ebbene non riusciamo a compiere nulla di umano di positivo in termini umani nulla di buono in termini umani quindi dobbiamo distinguere nettamente ciò che è in nostro potere da ciò che non è in nostro potere altrimenti corriamo il rischio di non fare nulla di ciò che è umanamente possibile fare di buono di positivo di moralmente corretto detto in altri termini qui ci soccorre il cristianesimo questo è anche il motivo per cui le opere di Epiteto e degli stoici in generale gli stoici romani Seneca per esempio ci sono giunte quasi integre ed è anche il motivo per cui queste sono le opere fondamentali che cita Do sostanzialmente ebbene nel cristianesimo c'è questa stessa idea stoica in qualche maniera anche se il dio cristiano è un dio personale quello stoico è impersonale corrisponde a Zeus o alla legge di natura no è immanente mentre il dio cristiano è trascendente ma insomma detto questo sostanzialmente il motto Signore dammi la forza di poter fare quello che è il mio potere di accettare quello che non è il mio potere sia fatta la tua volontà venga il tuo regno sono affermazioni assolutamente in linea con la filosofia stoica con la vicina del mondo stoica quindi non potrò compiere nulla di buono in termini umani se non mi abbandono nelle mani di Dio per ciò che non è sostanzialmente il mio potere il mio potere è abbandonarmi nelle mani di Dio per ciò che va al di là delle mie possibilità è fare il mio dovere in termini morali svolgere fare la mia parte svolgere il mio compito da essere umano per quello che è di mia competenza vediamo quindi il primo fondamentale esercizio stoico quello della prosoché dell'attenzione dell'ic et nunc del qui ed ora perché la realtà è qui ed ora è il presente passato e futuro sostanzialmente sono cose che o ancora non sono oppure cose che sono già che furono già che sono già passate dunque sia il futuro sia il passato non sono in nostro potere non rientrano nella sfera di nostra competenza io non posso cambiare il passato non posso come dire riavvolgere il nastro della mia vita e compiere scelte diverse rispetto a quelle che ho compiuto cinque anni fa in quel determinato frangente dunque i sensi di colpa la nostalgia del passato sono sentimenti di cui dobbiamo fare a meno possiamo tranquillamente fare a meno il passato non si cambia e il futuro non lo si può anticipare l'unica sfera che è una sfera immensa peraltro che dipende concretamente da noi è la sfera del qui ed ora è la sfera del nostro presente è dal gesto dalla scelta morale che compiamo qui ed ora che in qualche maniera si redime il passato se c'è qualcosa da redimere nel passato e si anticipa in maniera positiva il futuro è nel qui e nell'ora è nella scelta che facciamo in ogni attimo presente nell'attimo presente sostanzialmente c'è in nuce l'eternità quindi l'abroso che l'attenzione al momento presente è appunto l'atteggiamento fondamentale dello stoico è l'esercizio spirituale fondamentale dello stoico e si manifesta con questa vigilanza questa presenza di spirito continua quindi una concentrazione continua una tensione continua poi eccessiva quindi poi vedremo come sostanzialmente diciamo stemperarla o contaminarla con il relax per così dire tipico dell'epicureo quindi coscienza sempre d'est e il concetto di tonos il tono è quello centrale contrario del tonos è l'anesis dell'epicureismo quindi questa è la metafora che utilizzavo prima il tonos consisterebbe nella sistole nella contrazione del muscolo cardiaco per così dire mentre l'anesis tipica dell'epicureismo la filosofia che si basa sull'edonè sul piacere la vedremo successivamente è quello della distensione da sistole e la diastole sentiamo Marco Aurelio in tutte le cose e in ogni istante dipende da te compiacerti devotamente di ciò che accade presentemente cioè nel presente comportarti con giustizia con gli uomini presenti ed esaminare con metodo la rappresentazione presente per non ammettere nel pensiero nulla che sia inammissibile qui il termine presente ritorna più riprese così come il concetto di uomo presente corrisponde al concetto evangelico del prossimo il prossimo è la persona che tu hai qui ed ora presente vicino nel tempo e vicino nello spazio perché solo sulla persona presente qui ed ora che tu effettivamente puoi agire moralmente tutto il resto è al di là delle tue impossibilità ecco perché concentrandoti sul presente sostanzialmente escludi dal pensiero tutto ciò che non è ammissibile è inammissibile agire su ciò che in quel momento non rientra nella tua sfera di competenza dunque non è in tuo potere getta via tutto quindi e tieni ferme solo queste poche cose e ricorda anche che ciascuno vive solo questo presente incommensurabilmente breve il resto è già stato vissuto o è avvolto nell'incertezza è poca cosa quindi ciò che vive ciascuno ed è poca cosa il cantuccio della terra in cui vive è poca cosa è anche la più duratura fama postuma questa fama trasmessa da una generazione all'altra di omuncoli che in un attimo sono morti e che non conoscono neppure se stessi figurarsi poi chi è già morto da tanto tempo questo Marco Aurelio l'imperatore lo dice a se stesso il titolo dell'opera di Marco Aurelio è a se stesso è una sorta di meditazione è un altro degli esercizi spirituali quello dello scrivere diciamo del fermare su carta le proprie meditazioni le proprie idee e l'imperatore filosofo sostanzialmente sta ricordando a se stesso che deve sfuggire all'ecocentrismo l'ecocentrismo che è sempre in agguato ricordati che devi morire ricordati che sei nulla è anche la fama quella a cui potrebbe mirare aspirare un imperatore anche quella fama lì è niente alla fine tutta la tua ricchezza e tutta la tua sfera d'azione sono qui nel presente poi un attimo un attimo e si è morti la vita dell'uomo è il volo di una farfalla e dunque godere del presente stare nel presente vuol dire liberarsi dalle passioni passioni che si vivono passivamente indubbiamente che si subiscono che sono innescate dall'illusorio sporgersi verso il passato e verso il futuro che non sono sotto il nostro potere Seneca is presentibus gaudet goditi queste cose presenti godi il presente stai nel presente afferra il presente è un carpe diem ricorda il carpe diem oraziano sostanzialmente ancora Marco Aurelio diamo sempre la parola all'imperatore filosofo anche se tu dovessi vivere tremila anni e dieci volte altrettanto in ogni caso ricorda che nessuno perde altra vita se non questa che sta vivendo né vive altra vita se non questa che va perdendo pertanto la durata più lunga e la più breve coincidono nell'attimo c'è l'eternità questo è il senso dell'affermazione precedente infatti il presente è uguale per tutti e quindi ciò che si consuma è uguale e la perdita risulta così insignificante perché nessuno può perdere il passato né il futuro come si può essere privati di quello che non si possiede ricordare sempre quindi questi due punti il primo che tutto dall'eternità è della medesima specie e ciclicamente ritorna è l'idea dell'eterno ritorno dell'uguale tipica dello stoicismo tra l'altro cioè il mondo il cosmo è soggetto a una serie di cicli cicli di migliaia e migliaia di anni e tutto ciclicamente ritorna e non fa alcuna differenza se si vedranno le stesse cose nello spazio di cento o di duecento anni o nell'infinità del tempo il secondo che sia chi vive moltissimi anni sia chi dopo brevissimo tempo è già morto subiscono una perdita uguale è solo il presente infatti ciò di cui possono essere privati poiché è anche l'unica cosa che possiedono e uno non perde quello che non ha siccome l'unica cosa che possediamo è il presente uno spazio peraltro che si estende verso l'eternità che si estende all'infinito in termini qualitativi in termini di interiorità ebbene soltanto questo abbiamo da perdere quando esaleremo l'ultimo respiro avremo perso per così dire l'ultimo momento di vita non avremo perso tutta la vita è solo quel momento lì che possiamo perdere è solo il gestire bene o male questo momento qui il momento che io sto utilizzando ora per registrare questa lezione per fare questa lezione è questo che io posso perdere è qui che si gioca in questo momento tutta la mia virtù e tutta la mia vita nel fare bene o male quello che mi sono prefisso di fare tutto il resto non è il mio potere e lo debbo lo posso e lo debbo tralasciare e questa idea la posso spingere all'infinito sia nel passato sia nel futuro e sia che passato e futuro effettivamente si chiudano in un ciclo in un circolo nell'eterno ritorno cioè tutto il circolo in ultima istanza dipende dal momento presente da come vivo io questo momento presente di quello che faccio effettivamente del tempo del mio tempo hai visto quelle cose? guarda anche queste non turbare te stesso semplificati semplificati qualcuno sbaglia? sbaglia il suo danno ti è successo qualcosa? bene tutto quel che ti succede fin dall'inizio era stato riservato entro le cose dell'universo per essere assegnato a te e intrecciato con la tua vita insomma la vita è breve bisogna sfruttare il presente con oculatezza e nel rispetto della giustizia si sobrio ma con elasticità ecco non turbare te stesso semplificati lascia perdere tutto quello che non ti compete tutto quello che non puoi controllare è un modo per dirsi teguitisi anche lo stoico lo possiede concentrarsi sul presente su ciò che è il mio potere sostanzialmente mi porta a guardare tutto quello che mi gira intorno e che io non posso controllare con quel senso di abbandono che è il fatalismo ma inteso nel senso buono della parola fatalismo quindi non vuol dire rassegnarsi a ma saper bene distinguere quello che non dipende da me e abbandonarlo prendo il respiro faccio quello che posso nel prendere il respiro e poi lascio andare così come lascio andare ciascun respiro effettivamente debbo poter lasciare andare tutte le idee e tutte quelle cose che mi ruotano per così dire intorno e che io non posso minimamente controllare considera che tutto quello che avviene non può non avvenire che secondo le modalità che effettivamente si presentano in quel momento tutto è collegato da un nesso di causa effetto che sostanzialmente noi non controlliamo è quell'idea del karma cioè noi non controlliamo tutta la catena noi controlliamo l'attimo presente e nel controllare l'attimo presente decidiamo l'attimo futuro per così dire ma in ultima istanza non controlliamo nemmeno l'attimo futuro è qui nel presente che si gioca la partita quindi abbandona lascia tutto quello che non è di tua competenza e dunque per oggi terminiamo con questa idea con questo concetto riprendiamo poi nella prossima lezione il famoso motto che poi è il motto dei boy scout ripreso anche qui dal mondo antico è state parati cioè state pronti state sul chi vive pronti essere preparati ad applicare la regola di vita quella che gli stoici chiamano gli stoici gli epigurelli le scuole ellenistiche chiamano canone canone la regola fondamentale applicare la regola di vita alla singola circostanza mettendo in moto tutti gli escamotaggi tutti gli strumenti che possiedi qui ed ora quindi strumenti che vanno dal concetto puro dall'uso dell'intelletto ma anche l'immaginazione la commozione la capacità di provare sentimenti quindi l'esercizio non riguarda dicevamo solo la componente intellettuale ma l'essere umano nella sua interezza per così dire il busto è sempre di Marco Aurelio forse l'avrete riconosciuto sentiamo Seneca questi sono i principi che a colui che ricava frutto dalla filosofia il nostro Demetrio ordina di tenere stretti con tutte e due le mani con tutte e due le mani e di non abbandonare mai anzi di assimilarli profondamente e farne parte di se stesso tanto che in conseguenza della giornaliera meditazione essi gli vengano incontro giovevoli quindi tienili ben presenti stringili forti con entrambe le mani non te ne separare mai questa è l'idea nella prossima lezione continueremo ad esplorare gli esercizi stoici sostanzialmente e poi termineremo lo stoicismo e entreremo nella filosofia successiva nella concezione successiva che è quella forse più rilassante dell'epicureismo grazie